quello che ha detto questo Papa il cammino negatagonale è un dono del Spirito Santo per la Chiesa ha detto il Papa Francesco sono parole del Santo Padre del Papa Francesco che sta vivo e che è il nostro Papa il nostro Vesco che ci vuole bene siamo stati con lui e abbiamo un amore grandissimo mi dice le prime parole che mi dice a me andiamo a vedermi Chico, tutto quello che tu decidi io te lo approvo queste sono le parole con le quali mi ha colto ma bene, speriamo non decidere cose strane va bene, abbiamo finito? no, ancora no Chico grazie Chico ora tocca al presbitero della tua equip Padre Mario dare un po' con la sua testimonianza bene, io parlo come spettatore grazie a tutti